Altra importante vittoria per l'Arezzo calcio femminile nel derby contro la Pistoiese. Il primo caldo stagionale crea un po' di problemi ad entrambe le squadre in campo, anche se la partita inizia su ritmi alti da una parte e dall'altra. Primi minuti di studio tra le due formazioni fino al diciannovesimo, quando l'Arezzo passa in vantaggio grazie ad un gol di Razzolini che raccoglie un perfetto assist di Lulli e batta Italiano in uscita. Pochi minuti e l'Amaranto hanno un'altra occasione con Capitan Verdi. Ma la conclusione finisce alta. La Pistoiese si fa pericolosa su un calcio di punizione mischienaria, ma il direttore di gara ferma tutto per carica sul portiere. Nella ripresa il livello del pressing Amaranto si alza e al 54esimo Ceccarelli di testa firma il raddoppio su corner battuto da Tuteri. Passano quattro minuti e l'arbitro concede un calcio di rigore per un fallo di mano nell'area di rigore della Pistoiese. Sul dischetto si presenta Orlandi che batte Italiano e porta il punteggio sul 3-0. La Pistoiese approfitta di una leggerezza nella retroguardia Amaranto, ma è brava Valgimighi a rimediare. Al 76esimo l'Arezzo chiude definitivamente il match grazie al secondo gol di giornata di Ceccarelli che spiazza Italiano dal dischetto concesso per fallo su Gnisci. Con questa vittoria le Amaranto restano accanciate alla coppia di testa formata da Bologna e Filecchio. Il prossimo weekend non si giocherà per le festività pasquali. Le ragazze Amaranto torneranno così in campo tra le mura amiche domenica 11 aprile contro il Ducato Spoleto. Anche loro il primo tempo hanno tenuto bene il campo e ci ha voluto un pochino più di pazienza mettersi lì e imporre il nostro gioco. Però poi siamo riusciti a trovare la strada giusta e abbiamo sbloccato il risultato. Specialmente il secondo tempo dopo che si è messo al sicuro il risultato si è provato a trovare qualche soluzione per poter lavorare anche su altri moduli e giustamente per crescere perché come ripeto e ho ribadito anche nelle domeniche precedenti da qui alla fine del campionato per noi sono tutte finali quindi ci dobbiamo trovare preparati sempre a qualsiasi soluzione e con la soluzione in tasca sempre insomma perché il nostro obiettivo è essere protagonisti e arrivare in fondo a sto campionato veramente ma veramente da protagonisti. Ognuna di noi fa leva sull'altra sia per quanto riguarda le titolari che possono non essere sempre le stesse come è giusto che sia che poi tra l'altro ci aiuta anche durante la settimana ad allenarci bene perché nessuna di noi sa quando giocherà se rispetta ad un'altra quindi questo ci aiuta a mantenere il livello molto alto in allenamento e sicuramente questo comporta anche una grande dose di fiducia nei riguardi sia di chi gioca da subito sia di chi entra. Come squadra, come gruppo, come abbiamo detto prima noi non abbiamo paura di niente, non abbiamo paura di nessuno perché sappiamo quali sono le nostre qualità facciamo molto molto leva appunto sulle nostre qualità e andremo sempre a lavorare al meglio per poter essere pronte ad affrontare questi scontri diretti che a breve arriveranno.